Ciao, sono Zane di Turbolub.it, registro questo video in tutta fretta per segnalarti una bruttissima notizia per il mondo cripto in particolare l'exchange Binance ha appena annunciato di aver subito una violazione hacker, sono stati hackerati il CEO, il presidente numero uno di Binance ha appena pubblicato questo comunicato sul sito ufficiale nel quale annunciano appunto che gli hacker sono riusciti ad ottenere vari chiavi di accesso e i codici del two-factor authentication e altre informazioni, sono riusciti a penetrare nel sistema il risultato netto e che sono riusciti a rubare 7000 Bitcoin depositati sugli hot wallet del portale. Il danno pare essere abbastanza contenuto perché la transazione sono riusciti a rubare circa solo il 2% del totale dei Bitcoin depositati sull'exchange, però comunque è un danno importante. Binance ha annunciato che comunque utilizzerà il proprio fondo di copertura dell'incidente per rimborsare gli utenti interessati e che attiveranno una bella investigazione comprensiva su tutto quello che può essere successo sulle cause e in caso per cercare naturalmente di risalire agli aggressori. Per il momento ci sono queste notizie disponibili qui su turvola.it vi ho fornito qualche informazione, continueremo a pubblicare durante la giornata informazioni mano a mano che verranno fornite da Binance per rimanere informati. Per il momento il prezzo di Bitcoin per il momento sul breve periodo non sembra aver subito un crollo troppo forte c'è stato questo meno 2,43% più o meno attorno all'ora in cui è stato annunciato l'hack però non ci sono ancora candele rosse particolarmente significative. Chiaramente sto registrando questo video appena ho acquisito l'informazione quindi è certamente possibile che nel corso della giornata mano a mano che le persone anche in tutto il mondo si svegliano e prendono conoscenza di questo brutto hack possono cominciare a vendere facendo scendere il prezzo. Bene da Zana di turvola.it è tutto, per il momento vi saluto.